Funziona la cura Zavettieri, la vittoria ottenuta dall'Aquila a Ferrara apre scenari nuovi per i rosso-blu chiamati ora a confermarsi e a scalare posizioni di classifica. La vetta dista appena 5 lunghezze e dunque è lecito sognare pur restando con i piedi per terra. Il 3-0 ottenuto in terra emiliana ha esaltato la forza di una squadra che ha ritrovato la prolificità dell'attacco. Oltre al solito San Domenico da rimarcare c'è la prima segnatura stagionale di Perna che è riuscito a rompere l'incantesimo e a sbloccarsi dopo un lungo digiuno. Ora però l'importante sarà confermarsi ad iniziare proprio dalla gara di sabato prossimo al Tommaso Fattori con la Carrarese. Per la sfida con i toscani il trainer rosso-blu dovrà però fare a meno del difensore Maccarrone che sarà squalificato. E se l'Aquila ride il Teramo non può fare altrettanto? I punti in classifica sono gli stessi dei cugini rosso-blu ma le ultime prove della squadra del presidente Luciano Campitelli hanno un po' lasciato a desiderare. Non mancano le attenuanti per le tante assenze che hanno costretto il tecnico biancorosso Vincenzo Vivarini a schierare anche contro il propiacenza una formazione incerottata. Resta però il fatto che il diavolo è a secco di vittorie da oltre un mese con l'ultimo successo casalingo che risale addirittura al 20 settembre quando al Bonolis il Gubbio fu sconfitto per 2-1. E domenica mattina alle 11 ci sarà la sfida esterna di San Marino dove rientreranno dopo le squalifiche Scipioni e Cenciarelli. Da valutare le condizioni di Petrella uscito sabato scorso per infortunio. Oggi intanto verrà operato al ginocchio destro il difensore italo-marocchino Nebil Kaidi. Ivan Speranza guarda però avanti con fiducia. Vivarini dice che insomma qui a Teramo è diventato difficile giocare la palla scotta, al primo errore arrivano i fischi dalla tribuna. Voi avvertite tutta questa freddezza da parte del settore che ha alle vostre spalle? Certamente, ma questa fa parte del calcio e il calciatore deve essere pronto anche per questo. Purtroppo quando si va bene si ricevono gli applausi, quando si va male oppure non si fa così bene come tutti si aspettano si riceve qualche fischio. Ivan come si fa ad uscire da questa situazione e a tornare alla vittoria che manca da più di un mese? Dobbiamo stare calmi, tranquilli, compattarci come gruppo, come ho sempre detto, perché il gruppo è la cosa più importante. Non dobbiamo far prenderci dal nervosismo, dalla rabbia, da tutto. Dobbiamo stare tranquilli e prima o poi i risultati verranno, perché questa è una squadra che comunque sta giocando anche un buon calcio secondo me. Però purtroppo stiamo ricavando poco dal nostro gioco. Domenica ci sarà questa gara col San Marino, tra l'altro si giocherà alle 11 in un orario particolare, una gara non facile come tutte, però bisognerà cercare di fare qualcosa in più di oggi. Certo, un orario un po' anomalo alle 11, però come dici dobbiamo fare qualcosa in più, dobbiamo cercare di andare lì a prenderci i tre punti, come stiamo cercando di farlo tutte le domeniche. Purtroppo non è sempre facile, capitano gli episodi negativi e prende i gol, però la nostra intenzione è quella di andare lì a fare il risultato pieno.